Una struttura che si muove in completa autonomia, il lavoro che è stato fatto e che continua in maniera incessante qui in regione Baite della città di Imperia, vede come uno dei nostri maggiori supporter e quindi tutti gli interessi che sono abbinati all'amministrazione comunale di Imperia. Qui con noi l'assessore allo sport Simone Vassallo. Simone, intanto un piacere averti qui e chiaramente un aiuto che noi continuiamo a chiedere di supporto al Comune perché continui nell'assistenza a questo sport che è sempre più popolare qui nell'Imperiese. Io oggi sono molto orgoglioso e molto soddisfatto anche di essere qui, proprio nel campo Pino Valle, a fare questa presentazione, quindi è un appuntamento importante. Credo che fare una conferenza stampa dove si presenta l'inizio di una Serie C voluta, lottata, quindi che quest'anno presenta un bel campionato si debba fare in loco anche perché ci sia la possibilità di credere in questa disciplina, credere in questo sport. Spesso tanti sport vengono messi un po' da parte, non si portano a conoscenza della città, della gente e invece ci sono un gruppo di persone che si sono date sempre da fare e si sono sempre impegnate. Il Comune chiaramente con le poche possibilità economiche ha sempre cercato di dare l'utilizzo e la massima disponibilità logistica di tutto quello che può fare, però devo dire che le società sportive si sono sempre date da fare a partire dall'Imperia Rugby e arrivare a tutte le altre che abbiamo all'interno del Comune per valorizzare quelli che sono gli impianti sportivi e per adattarli meglio a tutti i giocatori e tutti gli utenti. Questo è un ringraziamento fondamentale che faccio chiaramente oggi all'Imperia Rugby ma soprattutto a tutte le società sportive che si danno sempre più da fare. Oggi è una bella soddisfazione perché è anche un bel contenitore, si fa un campionato dove c'è questo bel contenitore, questa bella sinergia dove il campanellismo imperiese viene messo da parte anche delle altre città perché è integrato con società di Valle Crosi e di Sanremo, quindi è un campionato che è voluto e questo deve portare tutti i giocatori della provincia, più importanti, a avere una soddisfazione unica che è quella di portare il rugby ad alti livelli.